3, 2, 1, 6 Metti una sera a Vercelli Dove torneremo a fare quelli? Di sempre, tirare fuori le bici, fare un giro tra amici, e tornare normali, che puoi essere speciali, per un'estate di suoni, per un'estate di amori. Metti una sera a Vercelli, dove torneremo sempre quelli, di sempre. Mangiamo un altro gelato, e no che non mi hai stufato, se la mia città, siamo tutti qua, stiamo ancora un po' fuori, in alto i nostri cuori. Metti una sera a Vercelli. L'estate 2021. L'estate 2021. L'estate 2021. Anche a Vercelli. A Vercelli. Ci sono i nostri TV! Grazie.